Edoardo Winsper, regista, sceneggiatore, produttore, nato a Klagenfurt in Austria, ma cresciuto a depressa, piccola frazione di Tricase. Lei come si presenterebbe? Come regista? Siccome sono un regista che pensa di essere un autore indipendente, scrivo le mie sceneggiature insieme ad altri, però se devo definirmi dico regista. Nelle sue vene sangue austriaco, ungherese, inglese, discende dalla nobile famiglia dei Whisper, originaria del nord dell'Inghilterra, che a fine Ottocento si trasferì in parte nel Salento. Suo padre era il barone Riccardo Whisper, sua mamma Elisabetta principessa dell'Hichtenstein. Lei, nonostante i tanti viaggi, le tante influenze diverse, si sente e si manifesta profondamente salentino. Sì, perché le mie radici sono talmente complesse. Come dicevo prima, io ho quattro nonni, otto bisnonni e questi, come tutti noi, però questi otto bisnonni provengono da otto nazioni diverse e parlano quasi tutti lingue diverse. Forse proprio per questo ho bisogno di sentire delle radici forti. Poi uno è di un posto non perché ha il sangue del posto o ha un cognome locale, perché respira la cultura, mangia i piatti locali, si innamora di una donna del posto, vive. Quindi io sono cresciuto in Puglia, nel Salento, da quando sono nato praticamente, perché sono giusto nato in Austria. Quindi ho sposato la Puglia come la mia terra d'adozione, che poi è la mia terra, basta. Partiamo dall'inizio. Ci racconta il suo incontro con il magico e fantastico mondo del cinema? Allora, io ho iniziato a interessarmi al cinema quando, come tutti i bambini, quando ero molto piccolo, negli anni 60, fine 60, inizio 70, ogni paese aveva tanti cinema. Quindi mia madre, che ha vissuto 13 anni a Parigi, che era la città con più cinema al mondo, era una cinefila e noi andavamo sempre al cinema. Andavamo anche a vederci due, tre film al giorno, passavo da Walt Disney a Dottor Zivago. E da lì, e quindi per me il cinema era il mondo, la televisione non era così forte all'epoca ancora, non è così importante. Quindi il cinema e l'atteratura era l'evasione, il sogno, i viaggi. Mi permetteva di viaggiare stando nello stesso posto, senza le attese del viaggio, della noia, che poi mi piace molto viaggiare, del treno. E poi le storie, i personaggi, scoprire tanti personaggi diversi, scoprire tanti stili, tanti colori diversi. Quindi è nato da quando ero piccolo, già dall'età di 14 anni, dicevo a tutti, volevo fare il cinema. E ho iniziato a fare piccoli reportage, ma proprio nella strada di fronte a casa mia. Il suo primo amore cinematografico, se lo ricorda, qual è stato? Il mio primo amore cinematografico maturo forse è stato, c'era una volta il West, mi piaceva il film Western. Però non c'è, sai, io sono talmente vorace, sia in letteratura che nel cinema, che non posso limitarmi a un solo genere, a un solo film. Quindi, a seconda del mio umore, preferisco commedie, tragedie, drammi, film di fantascienza, tutto. La vita in comune, Galantuomini, Grazia di Dio, Sangue vivo, Il miracolo, tutti i suoi film sono girati in Puglia. Che cosa ha di speciale questa terra? Allora, la Puglia intanto c'è qualcosa di molto speciale che è la mia terra. Non perché io sono la misura di tutte le cose, è semplicemente che io penso che una persona, per essere felice, per stare in grazia di Dio, deve sentirsi bene nella propria terra. E poi ogni terra è un microcosmo che è metafora di un mondo più grande. Io, capita che vivo in Puglia, nel sud della Puglia, nel Salento, e comunque c'è qualcosa di speciale, perché la Puglia è anche un finisterre, dove finisce il mondo, però inizia un altro, di fantasia, di immaginazione. Poi il basso Salento, quando sono nato io, ma ancora ora, è un posto ancora non totalmente emologato. Il Salento comunque mantiene ancora un'originalità, persone che sono inconsapevolmente non conformiste. E quindi esploro questo mondo, questo mi piace molto. Poi, semplicemente, ci vivo lì, c'è anche un motivo prettamente economico, costo di meno, logistico costo di meno. E per fare dei film indipendenti devono costare poco, perché costino poco, devono essere dei film contemporanei e girati in poche location. Se vi metto a girare un film ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, in una battaglia navale, costerà un po' di più. Però, al di là dell'aspetto economico, della sostenibilità economica, i suoi film sono diversi, perché sono anche delle produzioni sostenibili sotto tanti punti di vista. Poi lei preferisce l'uso del dialetto, sceglie di girare con attori non professionisti, è un po' un cinema diverso il suo. Sì, non sta a me di dirlo, però sì. Allora, intanto, io ho un grande interesse per tutto quello che è vero, che è autentico. E per questo, poi succede che sono un regista italiano, e per fare qualcosa di autentico devo usare la forma locale, perché se faccio parlare in italiano, i miei attori sembra strano, non perché non parlano in italiano, però non è la loro lingua. Tutti noi parliamo tre lingue, parliamo il dialetto, l'italiano locale, con espressioni locali, e poi si può anche parlare italiano. E i miei personaggi a casa parlano in dialetto. Se devo raccontare una storia a metà nel Salento, mi sembrerebbe strano, soprattutto se l'ambiente è contadino, operaio, mi sembrerebbe strano fare di recitare in italiano. Voglio verità, voglio autenticità. E l'autenticità è data dai volti, è data dalla loro forma di comunicazione, che non è solo la lingua. Sono anche, io studio moltissimo i gesti, tutto quello che è autenticamente italiano. Quindi le piace poi riportare questo mondo, ovviamente, la verità di questo mondo. Esattamente. Quando gira i suoi film. Ma l'arte nella sua vita è presente in diverse forme, scrittura, musica, non solo cinema. Che cos'è per lei un artista? Beh, un artista, intanto, è uno che si pone una domanda. Che cos'è l'uomo? Che cosa fa di noi, degli uomini, degli esseri umani? Se siamo diversi dagli altri mammiferi. Io penso che un artista è uno che esplora le emozioni. E tutto esplora le possibilità che ha l'uomo per emozionare. È una domanda molto difficile, molto complessa. E ci penso continuamente, ogni giorno. Se devo sintetizzare e trasmettere emozioni. E raccontare l'uomo. Raccontare l'uomo. È un lavoro infinito. Noi ci raccontiamo, per esempio, io penso ogni tanto, adesso con il mio sceneggiatore, lavoriamo insieme. Questa volta facciamo qualcosa di originale. E siamo convinti. Invece poi l'ha già fatto Omero, l'ha già fatto Gilgamesh, ce l'ha già fatto Virgilio. Sono anche delle variazioni sul tema che hanno sempre un senso. Che cosa l'affascina di più nel mondo che la circonda? Le persone, le storie, le cose straordinarie o le cose ordinarie? Da dove nasce? Come nasce l'ispirazione per un film? Che cosa mi affascina? Quello che mi affascina di più sono gli uomini. Io non finirò mai di essere, di provare meraviglia per l'essere umano. Sono noiosamente una persona che esplora il bene e che mantiene una speranza negli uomini. Sono un idealista. E questo non paga molto nel cinema, forse. purtroppo dovrei essere un po' più cinico e comunque l'uomo mi affascina moltissimo. L'uomo mi affascina perché c'è sempre qualcosa da scoprire. Io, quello che posso dire è che fare il cinema è la cosa, per me è veramente una grande grazia perché non sono mai annoiato. Mi trovo in coda alla posta o aspetto un treno, c'è lo sciopero. Le reazioni degli uomini mi affascinano moltissimo. Mi metto a parlare, scopro tante cose, scopro aspetti negativi e aspetti positivi. E la domanda che mi pongo è come mai le persone scelgono il male? Come mai le persone invece scelgono il bene? Come mai le persone sono così inaspettatamente generose? Come mai certe persone che tu ti aspetti cini che invece poi si scoprono stupende, bellissime, capaci di gesti straordinari. Quindi questo mi affascina e per questo che faccio il cinema e per questo che faccio l'arte. Nei suoi ultimi film in Grazia di Dio e la vita in comune c'è una poesia, una delicatezza, un romanticismo sincero che traspare e ci invade quando li guardiamo. C'è anche la forza dei legami che servono a superare anche momenti di difficoltà, le relazioni sincere. Tutto questo emerge almeno questa è la mia personale anche impressione dai suoi film. Lei racconta questo mondo possibile nei suoi film, questo mondo anche un po' se vuole idealista come diceva anche lei prima definendo se stesso. È così anche nella sua vita? Ma sì, sì, almeno è quello che spero che sia. io come dicevo prima mi interesso al bene al bene nonostante tutto. Al bene nonostante il male. Nonostante il male perché è difficile vivere, la vita è molto complicata soprattutto in certe zone tipo nel sud Italia è più difficile che non in Baviera probabilmente. però c'è spazio per la bellezza per il bene per la poesia per l'arte. Però ha raccontato anche le ferite di questa terra con il miracolo parliamo appunto dell'industrializzazione dei drammi dell'industrializzazione a Taranto Galantuomini ha parlato della mafia e della sacra corona unita quindi ha raccontato anche di una Puglia ferita. Sì, certo. Ma allora mi succede spesso che quando esce il mio film i Pugliesi soprattutto i Salentini dico che brutto perché fai vedere queste cose? Ma perché ci sono e perché comunque racconto una storia per esplorare il bene devo raccontare il male e poi perché esiste il male esistono i drammi esiste la mafia esiste una industrializzazione sbagliata come quella dell'Ilva a 100 metri dal centro storico esistono delle contraddizioni spaventose esiste l'allenazione dei giovani il mio lavoro è anche sociale cioè io non posso prescindere dall'aspetto sociale l'aspetto etico quindi racconto anche che è possibile vivere che è possibile vivere se mantieni dei valori se credi in delle cose se alimenti la fantasia se ti occupi di arte lo so che è un discorso da privilegiato artista lo so però credo che questo sia salutare lei ha conosciuto Don Tonino Bello quando lei era adolescente Don Tonino era a parroco di Tricase vicino proprio a dove viveva lei e a lui ha dedicato anche un film l'anima attesa ci dà un ricordo personale o comunque qualcosa che di Don Tonino le è rimasto dentro allora intanto io ho fatto due film uno piccolo che si chiama a Don Tonino e l'altro l'anima attesa io sono praticamente di Tricase perché Depressa è frazione sta a due chilometri da Tricase e quindi andavo andavo a messa da lui perché avevo un bravissimo sacerdote del mio paese però una sacerdote anziano che grazie a lui faccio anche il cinema perché era molto cinematografico le donne a destra gli uomini a sinistra tutte le donne con il velo il maccaluro si dice in testa era tutto molto anticoncilio Vaticano II però mia madre che era una straniera diceva bisogna anche andare a un altro tipo di messa e andavamo da Don Tonino e Don Tonino era straordinario perché era intanto sembrava un uomo felice perché spesso i preti da noi dico una cosa che non vorrei dire a te e padre Pio erano non sembravano sempre felici e Don Tonino era sportivo era colto era curioso curioso di tutto facevamo i cineforum con Don Eugenio altro sacerdote straordinario che era anche un bell'uomo lui e Don Eugenio e vedevamo Pasolini vedevamo i western vedevamo tanti film non vedevamo solo Marcellino pane e vino e c'erano i dibattiti ed era aperto era vitale era una freschezza ascoltarlo lui non riusciva a staccare l'aspetto religioso a quello sociale quindi c'erano spesso degli incontri con i giovani con i cittadini e soprattutto poi vedevo che un paese come Tricase era cambiato così come è cambiato un paese come Molfetta quindi le persone fanno la differenza lasciano il segno lasciano la differenza come l'ha fatto Don Puglisi come l'ha fatto Don Diana Don Tonino veramente era speciale poi era un uomo di un'intelligenza veramente straordinaria poi sapeva tutto sapeva tutto ed era ed era divertente poi sapeva nuotare molto bene giocava a calcio a palla a volo lui ha fondato la squadra dell'Ugento penso sì era veramente un uomo del multiforme ingegno straordinario poi era coraggioso coraggioso è andato ha fatto la marcia della pace a Saragliepo tanti miei amici sono andati e lui era malato di cancro ma proprio in metastasi poi è morto pochi mesi dopo quindi due film su Don Tonino Bello Papa Francesco Converte il criminale della vita in comune qual è il suo rapporto con la fede? allora io ho fatto un film che si chiama Miracolo In grazie a Dio l'anima attesa a Don Tonino uno penserebbe che sono un bizzoco conoscete questa parola? sì la conosciamo allora è un rapporto intenso io sono mi professo cristiano cattolico per tradizione la mia famiglia è arrivata in Italia perché cattolica perché inizio settecento sono arrivati qui perché questo è un paese cattolico i cattolici non erano tanto ben visti in Inghilterra però confesso che uno o due giorni a settimana c'è poca fede e ci sono dei giorni che non ce n'ho propria però nonostante tutto scommetto sulla fede poi sono semplicemente sono affascinato dalla figura di Gesù Cristo nessun uomo ha spaccato la storia è stato così influente nella storia dell'uomo come Gesù Cristo per quanto possa amare dei filosofi degli intellettuali dei pensatori politici Gesù Cristo è più grande di tutti poi penso che la fede mi fa mi alimenti anche la alimenti la mia immaginazione artistica io ogni tanto dico che io posso vedere delle cose che esistono eppure quelle che non esistono io vedo cose che non esistono perché 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 c'ho la fede quando ce l'ho ma anche quando non ce l'ho per la aiuta la poesia per esempio la fede e poi c'è l'amore per il creato che emerge dai suoi film per la bellezza che però non è soltanto una chiave di lettura dei suoi film ma è anche una condizione della sua vita lei nel 2004 è stato tra i promotori di Coppulatisa un'associazione per la bellezza dei luoghi un'organizzazione no profit che persegue lo scopo di ripristinare la bellezza dei luoghi del Salento colpiti dalla cementificazione e dall'abusivismo edilizio quindi anche nella sua vita lei cerca di salvarlo questo creato no? di salvare la bellezza è una goccia nell'oceano è un'associazione che è un po' velletaria come tutte le imprese idealistiche ma comunque ha lasciato il segno perché semplicemente noi abbiamo fatto delle azioni che erano delle azioni dimostrative per esempio abbiamo comprato un terreno in un posto bellissimo con una casa abusiva una casa abusiva dove non ci aveva nessuno era uno scheletro l'abbiamo buttata giù e abbiamo regalato questo terreno alla comunità è venuto il Presidente della Regione all'epoca di Nichi Vendola ed è diventato il parco della cittadinanza attiva questo perché volevamo ricordare il valore della cittadinanza attiva del bene comune e il valore della bellezza perché questo è un valore per motivi storici per motivi economici non molto apprezzato noi viviamo in un posto stupendo l'Italia del sud l'Italia ma gli italiani mica lo sanno e il fatto di fare queste imprese gratuite per noi era molto importante abbiamo preso in consegna un pezzo di territorio abbastanza importante di un comune salentino e abbiamo ripulito delle discariche ma ci abbiamo messo mesi e dove c'erano le discariche abbiamo piantato fichi d'India degli oleandri dei fiori così e abbiamo visto che non hanno più buttato le cose perché la bruttezza il degrado attira alto degrado la bellezza invece qualcosa fa perché e anche i certi sindaci ci hanno seguito ci hanno aiutato il sindaco di Riace per esempio abbiamo fatto delle cose anche insieme a lui intanto sono passati i 24 minuti della nostra intervista io avrei ancora tantissime cose da chiederle però se lei mi aiuta con risposte telegrafiche le faccio le ultime tre domande film preferito film preferito difficile questo non lo so ammetto che non sono preparato può dire passo film preferito talmente tanti che dico passo ok cos'è per lei il cinema e il cinema deve avere un ruolo beh l'arte deve avere un ruolo ma semplicemente l'arte siccome è è è la cosa che ti ti prova che emozioni questo è il suo ruolo è il ruolo di emozionare e quando noi ci emozioniamo ci ricordiamo di essere esteri speciali di essere uomini prossimi progetti prossimi progetti sto scrivendo un film più ambizioso dove racconto un milieu una società che non ho mai esplorato finora che è quella la società diciamo altoborghese aristocratica racconto dovrebbe essere la storia dovrebbe perché non si sa mai come va a finire il progetto fra una l'amicizia fra una elegante aristocratica cosmopolita mitte l'europea è la donna che si occupa di lei negli ultimi anni della vita è la storia di un'amicizia sarà girato in Puglia anche questo? in gran parte in Puglia grazie Edoardo Unisfer per aver risposto alle nostre domande per aver portato un po' del suo romanticismo cinematografico anche qui nei nostri studi grazie grazie a voi grazie 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 grazie